Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di East Journal. Come sapete questa sera parliamo della catastrofe nucleare di Chernobyl del 26 di aprile del 1986. Sono passati quindi 35 anni da questa tragedia e questa sera ne parliamo con quattro ospiti che tutti in qualche modo sono legati a questo evento da vicino per motivi di studio o biografici. Io do quindi il benvenuto a Iadina Grusha Possamai che è traduttrice, pubblicista e docente di lingua e letteratura ucraina a Milano. Poi c'è Claudia Bettiol, inizio sempre dalle donne, quindi Claudia Bettiol che insieme a me è co-direttrice editoriale di East Journal e che da anni vive a Kiev quindi ci darà una prospettiva sulla vicenda dalla prospettiva proprio ucraina. Poi abbiamo Simone Bellezza che è storico, ricercatore presso l'Università di Napoli e che ha veramente studiato con attenzione l'Ucraina del secondo novecento e contemporanea. Tra l'altro io consiglio sempre a chi vuole sapere di più dell'Euromaidan, dei movimenti del 2013-2014, il suo volume Ucraina che ho qui. E poi infine abbiamo Alessandro Achilli, anche lui ricercatore, che si occupa di poesia ucraina del secondo novecento e letteratura ucraina del secondo novecento ed è anche traduttore e tra l'altro uno dei pochi traduttori pittoriali dall'ucraino in Italia che ci porta proprio in italiano la letteratura ucraina. Ecco, io in luogo di una brevissima introduzione tratteggio velocemente qualche informazione relativa all'incidente del 1986 e le conseguenze sul breve e sul lungo periodo. Quindi, come dicevo prima, questa catastrofe nucleare avvenne il 26 di aprile e interessò in particolare il rettore numero quattro della centrale e chiaramente all'epoca le conseguenze erano inimmaginabili. Quello che sarebbe successo poi, le conseguenze sia sulla popolazione che sull'ambiente erano qualcosa di inaspettato, non si poteva bene prevedere quello che sarebbe stato. E chiaramente la prima parte di popolazione che fu colpita da queste radiazioni fu la popolazione locale e in particolare, diciamo, oltre 100.000 abitanti del raggio di 30 km attorno alla centrale vennero subito evacuati a partire dal giorno successivo e poi lungo tutto il mese di maggio. E sono le cittadine in particolare di Cernobil e Pripyat che furono interessate da questa evacuazione. Chiaramente, tra l'altro, questo episodio è molto ben descritto in un volume di Svetlana Alexievich che immagino molti di voi conoscano, che è preghiera per Cernobil che è stato, tra l'altro, utilizzato come base poi anche per la serie TV che conosciamo bene tutti dello scorso anno o forse già di due anni fa, adesso mi sbaglio, uscita per HBO. Chiaramente l'evacuazione dell'epoca non risolse tutti i problemi, ma come vedremo anche questa sera, in particolare Simone ci racconterà le conseguenze sul lungo periodo a livello ambientale e di salute che hanno delle ricadute chiaramente ad oggi e un aspetto interessante di cui magari ci parlerà anche Claudia è il fatto che comunque la zona di esclusione dei 30 km attorno alla centrale comunque è una zona che attira molti affascinati da queste zone quasi post-apocalittiche, senza anche quasi, e quindi si è creata una sorta di turismo organizzato e invece anche una sorta di turismo non organizzato e non ufficiale in cui appunto ci sono persone che in qualche modo cercano sempre di accedere a queste aree proibite e la polizia ne becca in media, almeno la polizia ucraina, ne becca in media tre al giorno, quindi sono tantissime persone che cercano di accedere. In più c'è una parte di popolazione originaria che negli anni è tornata a bere per suo, a proprio rischio e pericolo la lingua russa si è dotata di un neologismo in riferimento a queste persone che si chiamano samasyoli, da samsyilit, quindi autoresidenti potremmo tradurlo appunto si tratta in particolare di donne anziane, le cosiddette babushki che hanno deciso di tornare a proprio rischio e pericolo a vivere in questa zona, la zona di esclusione. Tra l'altro consiglio per gli interessati di guardare un documentario abbastanza recente che si chiama The Babushkas of Chernobyl, molto carino devo dire e un romanzo invece che lo tratta dal punto di vista più narrativo è L'ultimo amore di Babadugna di Alina Bronsky che è uscito per Keller recentemente. Ecco, ma prima di tutto io passo la parola a Simone che ci racconta dal punto di vista storico le vicende legate a Chernobyl e ci inserisce nel contesto della tarda epoca sovietica, che è quella appunto che ci interessa quando guardiamo alla seconda metà degli anni Ottanta ecco, come si inserisce questo evento in quel momento storico. Allora, buonasera a tutti e a tutte grazie Martina per questa introduzione grazie per aver citato il mio libro anche se non posso esimermi dal dire che quello è un libro bruttissimo cioè scritto molto velocemente quasi da manietante più che da storico pieno di errori fattuali e quindi insomma a chi è interessato posso dire che presto uscirà un altro libro non ad opera mia ma con autore, un giornalista italiano che si chiama Giuseppe Agliastro che sta ricostruendo le vicende di quei giorni dell'Euromaidan e delle conseguenze e quindi insomma lui è molto più bravo di me sta facendo il lavoro che si dovrebbe fare davvero e quindi quello era un libro come dire da partecipante. Allora sì, per quanto riguarda diciamo così, un'introduzione storica a quello che è l'evento dell'incidente alla centrale nucleare di Cernobil possiamo dire che siamo abbastanza fortunati nel senso che la ricerca storica gli storici americani, ucraini anche di altri paesi si sono dati molto da fare su questo periodo si sono dati molto da fare per quanto riguarda, diciamo così, sia il periodo generale della perestroica viene chiamato, cioè gli ultimi anni del regime sovietico con il crollo dell'Unione Sovietica sia sull'incidente proprio su quali sono state le circostanze e le cause dell'incidente alla centrale nucleare e devo dire anche che visto che l'ha già citato tra l'altro anche Martina per una volta la cultura di massa diciamo così guardando appunto la famosa serie di HBO non si è sbagliata di tanto quando è uscita la serie quasi tutti gli storici anche storici famosi come Sergi Plochi o personaggi come Masha Gessen l'hanno lodata perché è vero che quella è una serie che si prende certe libertà i fatti non sono andati esattamente così ma lo spirito, le motivazioni diciamo dell'incidente sì e allora cosa possiamo dire? possiamo dire che per chiarire insomma partendo dal piccolo per poi andare all'alto al grande l'incidente fu dovuto alle particolari condizioni in cui venivano costruite le centrali nucleari dell'Unione Sovietica l'Unione Sovietica degli anni 80 è un paese povero è un paese che non riesce più a guadagnare tutti i soldi che guadagnava negli anni 70 vendendo petrolio e gas all'estero è un paese in crisi economica che non produce abbastanza da mangiare per tutti e quindi è un paese che nonostante tutto ha anche fame di energia e allora l'Unione Sovietica si costruivano tantissime centrali o si volevano costruire tantissime centrali nucleari e il problema era però che le si costruiva secondo un modello che gli stessi sovietici avevano già testato e avevano visto che non funzionava cioè la proprio la costruzione della e la tecnologia utilizzata nella centrale nucleare di Cernobil si era rivelata agli occhi degli stessi sovietici fallaci c'erano delle falle era possibile che si verificassero degli incidenti anche gravi alcuni erano già anche successi per esempio qualche anno prima vicino all'allora Leningrado l'odierno San Pietroburgo ma non si era saputo nulla non si era come dire data notizia ovviamente di questi incidenti addirittura i tecnici che lavoravano nelle centrali non sapevano certe volte se non per passaparola del fatto che gli incidenti c'erano e che c'erano delle criticità e quindi quando noi andiamo a vedere e voi lo vedrete sicuramente o l'avete visto o se non lo volete vedere non lo vedete comunque la sera dell'incidente l'incidente come dire si verifica perché il meccanismo di sicurezza che dovrebbe servire a spegnere il reattore se qualcosa non andava bene in realtà in quel caso particolare di quel test che si stava facendo della centrale non funzionava e invece avrebbe proprio innescato un'esplosione in più c'era una squadra non esperta a fare il test perché nel mentre come dire quando avrebbero dovuto fare il test per davvero non era possibile spegnere quel reattore perché l'Ucraina aveva bisogno di tante energie elettiche quindi hanno rimandato il test mettendolo come dire in calendario quando c'era una squadra poco esperta per farlo insomma tutta una serie di concause che sono come dire riconducibili tutte al fatto che l'Unione Sovietica di quegli anni è un'Unione Sovietica in crisi che fa delle scelte fatte per risparmiare perché si continuava a fare quelle centrali nucleari che si sapeva che avevano dei problemi di sicurezza perché costavano meno negli Stati Uniti non le facevano più già lo sapevano che era pericoloso avevano iniziato anche loro a farle così poi avevano scoperto detto no non rischiamo la vita e invece in Unione Sovietica si faceva così le si faceva in fretta le si faceva con materiali magari un po' scadenti arraffazzonati non esattamente seguendo le regole che si dovevano seguire perché perché c'era quest'ansia di produrre tanta energia e diciamo così questo incidente ovviamente va a incidere poi sul contesto più generale della storia sovietica che è la storia ovviamente degli ultimi anni dell'Unione Sovietica quando Mikhail Garbachev che è diventato da pochissimo primo segretario segretario generale del partito comunista dell'Unione Sovietica sta cercando già di diciamo così rivoluzionare o di riformare l'Unione Sovietica e l'incidente di Cernobil o di Cernobil come si dice in ucraino costituisce qua un vero momento di cesura una vera frattura nella storia perché è chiaro che l'incidente di Cernobil sarà un danno di immagine incredibile a livello internazionale ovviamente come sapete l'Unione Sovietica non ammise subito che l'incidente era accaduto lo scoprierono gli svedesi poi si dovette dire da un punto di vista così riconoscere dal punto di vista internazionale non lo dissero subito neanche a quelli che vivevano vicino alla centrale tant'è vero che a Kiev la capitale dell'Ucraina si svolse lo stesso i festeggiamenti del primo maggio mettendo a rischio la salute di quelli che partecipavano ma il problema era ovviamente anche interno alla politica Garbaciov in quegli anni voleva riformare l'Unione Sovietica inizialmente anche lui non si rese subito conto di quello che stava succedendo poi quando capì che l'incidente era grave sfruttò di fatto poi l'incidente per portare avanti la sua politica della glasnost della trasparenza dire dobbiamo cambiare il nostro sistema di informazione perché noi altrimenti non sappiamo nemmeno cosa succede in Unione Sovietica non possiamo prendere le decisioni di cui il nostro paese ha bisogno ma poi ovviamente anche dall'altro lato l'incidente creò moltissime proteste e quindi contribuì tantissimo e queste erano ovviamente le conseguenze che magari Garbaciov non si aspettava moltissime proteste da parte della popolazione io sto guardando adesso sto studiando in realtà un po' più da vicino quegli anni e l'archivio dell'ex KGB che è aperto in Ucraina restituisce tantissimi documenti in cui si vede come la popolazione dei posti dove dovevano essere costruite le nuove centrali soprattutto in Ucraina protesta tantissimo in quegli anni dice ma no ma costruite un'altra centrale qua e avremo di nuovo incidenti come questo e questo ovviamente si unisce in quegli anni ai movimenti nazionali che stanno risorgendo che si stanno riformando ci sono i dissidenti che vengono liberati da Garbaciov che rientrano nella vita sociale del paese e daranno punto vita a questi nuovi movimenti nazionali che sono anche movimenti eco nazionali ultimissima cosa che volevo dire ancora su questo è una cesura perché anche Cernobil ovviamente vuol dire che per la prima volta l'Unione Sovietica siccome ha bisogno di aiuto dall'esterno e non lo può negare fa entrare dei soggetti esterni internazionali in Ucraina o in Russia e questi ovviamente si occuperanno ovviamente di aiutare le vittime ma anche saranno molto spesso tipo se non mi sbaglio credo che il delegato di Medici Senza Frontiere che si occupava di Cernobil in Ucraina il capo dell'organizzazione era Leon Di Plush cioè uno che fino a qualche tempo fa era considerato un cattivissimo dissidente che così ritornava in patria e ovviamente il KGB in quegli anni un po' preoccupato dice ma come ma questi tornano e poi arrivano con dei soldi con dei materiali fanno delle cose e lì un po' si rompe quella chiusura dell'Unione Sovietica che era stata importante per il mantenimento del potere da parte del Partito Comunista quindi questo è un po' diciamo da un punto di vista storico il contesto che si viene a formare con e a seguito dell'incidente chiedo scusa se ho parlato troppo a lungo grazie mille Simone tra l'altro io ricordo al pubblico che se ci sono domande curiosità per approfondire alcuni aspetti possono scrivere assolutamente nei commenti e noi riportiamo le domande agli ospiti adesso passiamo dalla storia alla contemporaneità e quindi chiedo a Claudia di raccontarci invece a chi è oggi qual è la memoria di questo di questo evento sì intanto buonasera a tutti grazie a tutti a tutti per essere qui stasera sì parlando sì nonostante appunto siano trascorsi 35 anni dalla catastrofe diciamo che il popolo ucraino come anche quello bielorusso lo sottolineiamo perché appunto il disastro è avvenuto in Ucraina però ha toccato anche la Bielorussia e anche abbastanza fortemente diciamo diciamo che il popolo ucraino ha ancora molte difficoltà tutte estremamente comprensibili nel rapportarsi con la memoria e il ricordo di quanto è accaduto nel 1986 tra le nuove generazioni non sono molti quelli che conoscono i particolari di questa tragedia né tantomeno quelli che sono interessati a parlarne anche quelli che invece l'hanno vissuta proprio sulla sulla loro pelle spesso rimangono in silenzio perché perché è un argomento ancora troppo fresco nonostante appunto siano passati comunque 35 anni è un pezzo di storia che non è ancora stato digerito diciamo si sentono queste persone si sentono ancora giudicate e a disagio vittime di qualcosa di terribile ovviamente bollati come sempre come i bambini o le persone di Cernobil piene quindi di cesio radiazioni o quei bambini che si illuminano la notte come faceva notare Anna Bardazzi nel suo libro uscito di recente la felicità non va interrotta e proprio qualche giorno fa ne parlavamo con Anna Bardazzi appunto redattrice anche di East Journal in questo suo libro che racconta fra molte altre cose come l'anniversario dell'incidente viene commemorato ad esempio ogni anno in Bielorussia con delle manifestazioni che non sono autorizzate ma che sono organizzate dall'opposizione del regime di Lukashenko che è al potere ormai da 26 anni quindi un po' non ha riconosciuto ancora questa catastrofe perché appunto l'opposizione dice noi sosteniamo tutti quelli che vogliono giustizia chiedono la giustizia vogliono sapere dov'è lo Stato da oltre 30 anni e perché la gente continua a morire da radiazioni o comunque dall'incidente e perché nessuno fa nulla perché naturalmente per Lukashenko va tutto bene e non c'è nulla di cui parlare ecco quest'anno a causa delle proteste che ricordiamo sono ancora in corso in Bielorussia nel paese si è tenuta semplicemente una marcia che però ha un volto femminile e le donne indossavano delle maschere antigasse ecco quindi si è tenuta solo questa marcia quest'anno in Ucraina in realtà i fatti sono abbastanza diversi la realtà è diversa da quella Bielorussia possiamo dire che la tragedia ha indubbiamente simboleggiato l'inizio del movimento indipendentista ucraino e come di recente ha affermato anche il ministro della cultura Oleksandr Kachenko ciò che è iniziato da una catastrofe tecnica è diventato rapidamente un motore di diritti umani democrazia e protezione ambientale come facciamo a notare anche Simone dopo la rivoluzione arancione del 2004 e quella di Maidan del 2014 le cose sono anche cambiate all'interno della popolazione c'è più attenzione nei confronti di questo tema che viene affrontato in maniera più aperta più trasparente e la memoria diventa un po' protagonista ad esempio è stato l'ex presidente Pietro Poroschenko a inaugurare il nuovo sarcofago protettivo nel 2016 che copre non solo il reattore numero 4 che è stato il reattore che è esploso ma anche il sarcofago precedente che era ormai diciamo quasi crollato ecco è stato sempre Poroschenko a organizzare degli eventi e a commemorare il 30esimo anniversario dell'incidente mentre quest'anno invece il 35esimo anniversario appunto è stato per lo più diretto organizzato da diverse associazioni diversi anche il governo ovviamente ha partecipato non sono mancati eventi mostre e discussioni che inizialmente sono state proposte comunque online a causa delle misure restrittive che hanno coinvolto non solo la regione di Kiev ma anche altre regioni in Ucraina ma presto appunto questi eventi saranno anche disponibili al pubblico ecco in presenza il presidente ad esempio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato il lunedì scorso ha visitato la mostra multimediale dal titolo Cernobil il viaggio al centro espositivo Vedenka di Kiev per chi lo conosce è un grande centro espositivo di mostre ed eventi che aprirà appunto al pubblico proprio la prossima settimana e racconta gli eventi del 1986 su un aspetto piuttosto umano contiene comunque molto materiale sull'incidente sui liquidatori ma mostra una realtà diversa e offre degli spunti di riflessioni molto importanti per il futuro di Cernobil la mostra appunto verrà aperta al pubblico in seguito alla quarantena un'altra mostra che è stata esposta al ministero degli affari esteri è stata quella di un fotografo Maximo Don Duke che dal 2016 addirittura ha raccolto ripristinato e ha creato un archivio digitale di vecchie fotografie anche qui film documenti fotografie e altro materiale che aiutano a capire di più soprattutto le regioni dell'evacuazione e della fuga dalle case degli abitanti della zona di Cernobil quindi anche questo mostra un'altra dimensione della tragedia quindi un'altra sorta di memoria addirittura all'interno del Parlamento Ucraino la Verhovna Rada è stata aperta anche una mostra di disegni di bambini che si chiama Black Wings of Trouble e appunto i bambini hanno disegnato qualcosa in questi ultimi periodi per dimostrare appunto di saper commemorare a modo loro questo questo disastro ecco Zelensky ha anche reso omaggio ovviamente ai liquidatori caduti durante il disastro non solo i liquidatori ma anche gli eroi che hanno partecipato alla alla fine allo spegnimento del fuoco dopo quando è scoppiato appunto il fuoco al reattore numero 4 mentre a Cernobil stesso nella città proprio nella città sono stati posati dei fiori delle ghirlande come ogni anno sempre in onore degli eroi e addirittura 35 candele sono state accese nella città di Pripyat la città fantasma negli ultimi anni quindi c'è comunque molta più attenzione anche da parte della stampa da parte dei media sulla tragedia scatenata sicuramente dal successo della serie HBO come ne ha parlato ne ha accennato Martina prima ma non solo appunto c'è c'è molta più attenzione forse perché è anche diventata una meta turistica di cui parleremo dopo quello che è importante è anche sapere che ci sono una serie di opere artistico-letterarie che sono uscite di recente e che non sono solo proposte a livello da artisti internazionali ma anche da artisti ucraini e in lingua ucraina che è un bel passo avanti rispetto agli anni scorsi e a tal proposito finisco col dire che un gruppo di artisti ucraini tra cui Serhii Bapkin per chi lo conosce e il gruppo Moski sono artisti molto conosciuti in Ucraina almeno hanno composto una canzone quest'anno che si chiama Vals 86 e che è stata programmata e diciamo suonata durante l'anniversario della tragedia ecco grazie Claudia ti chiedo subito riporto una domanda del pubblico Cecilia ci chiede dov'è possibile visionare il materiale raccolto dal fotografo che hai citato se è sempre a Chievo c'è una modalità online per vedere insomma queste sue immagini in questi suoi lavori il lavoro di Don Duke è una mostra che appunto è stata esposta al Ministero degli Affari Esteri non so non so se ci sia modo di recuperarla online perché io sinceramente appunto essendoci la quarantena comunque neanche io ho potuto andare a vederla comunque sarà aperta al pubblico a partire dalla prossima settimana e presumo che probabilmente ci sia un sito dedicato anche se io ho solo letto un trafiletto sui media nazionali ecco locali che appunto pubblici davano questa mostra lo cerco e sicuramente metto il link sotto l'evento di oggi ecco sicuramente ci sarà modo se c'è modo di vedere qualche materiale lo inserisco ecco grazie Claudia abbiamo parlato quindi di commemorazioni di tipo statale nazionale memoria collettiva ma possiamo parlare assolutamente anche di memoria culturale memoria culturale che ha una sua ricaduta su vari tipi di arti arti che possono essere appunto la letteratura il cinema le arti visive eccetera quindi chiedo subito a Iarina di parlarci delle ricadute culturali che ha avuto questo evento tragico su intanto cinema e arti visive buonasera buonasera a tutti ringrazio East Journal per aver organizzato questo evento e ringrazio Claudia e Martina per averci radunati tutti qua stasera intanto io parlerò del cinema perché poi Alessandro Achilli parlerà di letteratura e per parlare del cinema che parla di Chernobyl volevo introdurre all'inizio due punti allora il primo punto è il genere di questi film e il secondo punto gli autori di questo film allora parlando del genere introduciamo ulteriori due sottopunti allora il genere di questi film si può definire il primo genere è il film che parlano proprio della ricostruzione del giorno di quello che è successo e ricostruzione degli eventi della liquidazione dell'incidente e del disastro diciamo nell'immediato e se vogliamo dire questi sono un po' scenari apocalittici e infatti come ha già Martina menzionato la serie di HBO e questo è un classico film che proprio riporta gli eventi di come sono andate le cose dell'evento dell'incidente del perché e del come e un altro film che volevo introdurvi infatti non soltanto quello di HBO che ovviamente avendo gli strumenti della larga scala ha penetrato ovunque però un altro film che vi volevo menzionare è un film del del 2011 è un film del regista russo Alexander Mindaz presentato anche al festival di Berlino al concorso e il film si intitola Subotu cioè di sabato questo film ci parla di un giorno il 26 aprile cioè il sabato il giorno dopo dell'incidente e abbiamo questo protagonista Valery Kabish è un semplice ragazzo che per caso sente la conversazione tra autorità che vogliono tacere l'incidente e subito quella insomma quella mattina presto lui inizia il suo viaggio la sua corsa per salvare se stesso e per salvare i suoi cari infatti lui corre prima di salvare la ragazza che gli piaceva e poi loro mentre corrono a prendere il treno per scappare loro diciamo che finiscono in mezzo a un matrimonio e infatti sappiamo che il giorno dopo a Ciornoble sono stati tanti matrimoni e quindi questa atmosfera di questo film diventa un po' carnevalesca un po' anche grotesca perché comunque abbiamo un matrimonio sotto il cielo contaminato e il particolare di questo film che un po' possiamo anche la stessa cosa vedere nel film di HBO su Ciornoble è proprio la parte visiva allora l'operatore in questo film è famoso operatore rumeno Oleg Mutu che è stato anche l'operatore in un film che nel 2007 vinse la Palm Dorm di Festival di Cannes il film si intitola 4 mesi 3 settimane 2 giorni del regista rumeno Christian Mungiu quindi qui noi abbiamo una camera un operatore che corre sempre insieme a questo protagonista quindi questo ci aiuta ad entrare in questa atmosfera del panico di questo ragazzo mentre tutti gli altri stanno festeggiando stanno festeggiando il matrimonio poi un altro genere di questi film se vogliamo visto che abbiamo parlato dei film apocalittici sono i film post apocalittici quindi sono i film del genere che riflette sulla vita nella zona dopo dell'incidente ma dopo nel lungo nel lungo periodo e qui ovviamente parlando del film post apocalittici magari tanti di voi ne avevano sentito di un film del 2012 che si intitola Chernobyl Diaries non so questo horror di questo gruppo dei giovani sì e questo è uno degli esempi forse classici semplici quelli che vi vengono in mente quando si parla della zona e di questo gruppetto dei ragazzi che forse per quel turismo che poi Claudia ci racconterà vanno a visitare Chernobyl e Pripyat e lì ovviamente come nel classico film di horror si scontrano con delle realtà paranormali dei mutanti insomma da quali devono scappare ma intanto volevo menzionarvi un altro un altro regista e un altro film che parla proprio anche del periodo post-apocalittico della zona e riflette sulla zona parlo del regista ucraino che si chiama Miroslav Slaboshpitsky Miroslav Slaboshpitsky lui nel 2012 ha presentato questo film questo cortometraggio che si intitola Nuclear Waste possiamo tradurre sì come i residui nucleari o qualcosa del genere che anche lui vinse nel 2012 il Gheppardo d'Argento al Locarno Film Festival questo film è una riflessione su due persone che lavorano all'interno della zona e loro lui fa l'autista lei lavora in una lavanderia e diciamo sono quelle persone che ancora sono rimaste nella zona di Chernobyl che comunque lavorano perché devono assistere e devono lavorare insomma ancora all'interno della struttura e il loro mondo è diventato totalmente automatico e c'è tipo anche meccanico tutti i loro movimenti che perfino concepire un figlio diventa una cosa meccanica infatti questa concepire un figlio in una zona che diciamo che non si sa nemmeno se ha un futuro ed è una riflessione molto forte da parte di Miroslav Slaboshpitsky Miroslav Slaboshpitsky lavora adesso anche su un altro film questa volta sarà un lungometraggio che si intitolerà Luxemburg e viene fatto in collaborazione con in collaborazione tra i vari paesi tra i quali Norvegia Francia Germania e paesi bassi qui parlando di queste collaborazioni arriviamo il secondo punto che volevo introdurre e gli autori dei film di questi film quindi noi abbiamo gli autori i registi insomma quelli che stanno dietro le quinte parliamo di quelli di casa e parliamo di quelli forestieri diciamo così un po' già il concetto che aveva anche introdotto Claudia sul fatto che c'è ancora una grande parte della popolazione che non ha ancora digerito la tragedia e quindi questo si rifletta molto nei film e quindi ancora abbiamo gli autori ucraini soprattutto del film fiction perché stavo parlando del film fiction che hanno ancora difficoltà diciamo a riportare sullo schermo a parte Slavoshpitsky la la tragedia o le conseguenze della tragedia della tragedia di Cernobili quindi invece forestieri riescono meglio e quindi tante volte anche i film che vediamo sono comunque una collaborazione un film ucraino ucraino è ancora un po' difficile da trovare e per quanto riguarda le arti visive volevo anche forse un po' intraprendere il discorso che ha cominciato Claudia volevo solo menzionarvi due progetti un progetto che si chiama Artefact che è nato nel 2017 e che semplicemente potete andare a vedere su YouTube perché ci sono tantissimi video di questo progetto e sono è stata una specie di presentazioni multimediali che coinvolgevano anche VR e IR tecnologie insomma varie cross-culturali e multimedia strumenti quindi potete andare semplicemente a vederlo su YouTube e già anche come parlava giustamente Martina all'inizio di questi nuovi soli volevo menzionarvi in particolare un piccolo un piccolo progetto un progetto fatto proprio da forestieri non dagli ucraini un progetto che si chiama Svizda il Chernobyl so far so close è una è una performance multimodiale all'interno di quale c'è uno schermo con con questo documentario che parla di questi due signori che non sono mai andati via dalla dalla zona di di esclusione e questi Petro e Nedia che abitano ancora ancora fino lì ma il bello di questo di questo progetto multimodiale che sotto come vedete anche sulla foto sotto questo schermo ci sono tre installazioni di tre di questa tenuta di questa loro piccola casa dove abitano loro riportati nei periodi nelle stagioni diverse quindi ogni volta che noi sullo schermo vediamo vediamo insomma quella parte della stagione arriva anche quella installazione sotto che ci aiuta ad entrare ad entrare nel contesto questa questa performance l'ho vista a Milano tra l'altro nel teatro zona K e spero che riesca a tornare presto perché davvero ne vale la pena grazie Ierina e quindi appunto come dicevi anche tu lasciamo la parola ad Alessandro per raccontarci della letteratura invece su Cernobil grazie a tutti grazie a tutti per l'organizzazione di questo evento come ha anticipato Simone come abbiamo sentito anche negli altri negli altri interventi quello che è successo a Cernobil nel 1986 può essere visto come parte di un contesto più ampio siamo appunto negli anni della fine dell'Unione Sovietica e della preparazione di una nuova fase sia per l'area dell'Europa centro orientale che probabilmente per tutto il mondo anche il contesto letterario e culturale in cui si è situata la catastrofe di Cernobil è un contesto di grande cambiamento ufficialmente la perestroica e la clastros sono iniziate l'anno prima in quei mesi la letteratura ucraina come anche le altre letterature dello spazio postovietico è in Subbuglio è un periodo in cui si scoprono o meglio si riscoprono molte voci che per svariati decenni erano state taciute o erano state lette in modo illegale solamente da quelle poche persone che potevano avere accesso a tutta una serie di libri di opere di autori nascoste private ai più quindi è un periodo in cui si scopre che la letteratura ucraina e le altre letterature sovietiche sono molto più ricche probabilmente di quanto sembrava sulla carta ed è un periodo anche in cui cominciano a circolare più facilmente opere di autori stranieri per cui c'è molto da leggere in questo periodo e chiaramente il fatto che ci fosse molto da leggere portava anche al fatto che si potesse poi scrivere di più prendendo ispirazione da molte fonti la catastrofe ha come uno si aspetterebbe come è stato anche per altri episodi storici significativi della storia ucraina contemporanea come l'Euromaidan per esempio ha subito una forte ripercussione sulla letteratura molti dei nomi più importanti della letteratura ucraina di quel periodo si cimentano subito con diversi tipi di rielaborazione letteraria della catastrofe i nomi più importanti sia della poesia che della prosa di quel periodo parlo soprattutto di letterature diciamo ufficiali in questo periodo come Dmitro Pavleczko prosatori come Yevgen Hutzalo nomi della poesia che erano stati in silenzio per svariati anni e che avevano cominciato da poco a ripubblicare ufficialmente come Lina Kostenko sono tutti nomi che da subito propongono ai lettori la loro visione la loro interpretazione di quello che era successo e questo viene fatto da un punto di vista stilistico e tematico in modo abbastanza ampio sia nella prosa che nella poesia di questi autori predominano una visione tragica di quello che è successo però in realtà si iniziano intravedere anche probabilmente certi spunti postmoderni che uno magari non si aspetterebbe per esempio ci sono dei famosi versi di Lina Kostenko appunto su Chernobyl in cui è quasi diversa sul fatto che non è vero che i tetti di paglia in Ucraina siano un segno del passato possono anche essere un segno del futuro in quanto sono contaminati dallo stronzo in quegli anni e ancora di più nei 5-6 anni successivi però e ovviamente quella di una catastrofe nucleare è un'onda lunga inizia a imporsi sulla scena letteraria ucraina il postmodernismo chiaramente in ritardo rispetto al mondo occidentale ma questo è qualcosa che diventa rapidamente un fenomeno chiave un elemento cardine della nuova cultura letteraria e una studiosa di letteratura ucraina come Tamara Hundorova per esempio ha proposto un'interessante visione della letteratura ucraina contemporanea della letteratura ucraina dell'età post-sovietica scusate della tarra d'età sovietica dei primi anni dell'età post-sovietica appunto sulla base dello spartiacque di Czornobil ci sarebbe una letteratura pre-Czornobil che sarebbe la letteratura tarto-sovietica e una letteratura post-Czornobil la nuova letteratura dell'Ucraina che si stava facendo indipendente il riflesso degli eventi del 1986 continuerà ad accompagnare lo sviluppo storico della letteratura ucraina anche chiaramente dopo il secondo lustro degli anni 80 e però secondo me riemerge da questo punto di vista il discorso dei contatti tra le letterature del mondo slavo orientale è un periodo in cui la letteratura ucraina come probabilmente anche seppur in misura minore la letteratura bielorussa cominciano a riacquisire un carattere nazionale cominciano a svilupparsi differenziarsi coltivando i loro tratti personali quindi distinguendosi dal più ampio contesto sovietico che chiaramente invece ne caratterizzava la comunanza prima ma allo stesso tempo vediamo per esempio citando un nome che è già stato fatto oggi quello di Svitlana Lixievich come la vicinanza geografica e il fatto che la catastrofe si è ricordata non solo l'Ucraina ma anche in gran parte la Bielorussia come si è detto e anche una piccola parte della federazione russa nell'oplast di Bryansk fa sì che in realtà i contatti e le vicinanze tra queste culture si sentano ancora Svitlana Lixievich è una scrittrice bielorussa di lingua russa in parte di origine ucraina e quindi il fenomeno della sua scrittura e il successo di un'opera come Cernobilskia Malitva è qualcosa che in realtà ci fa ripensare ci ricorda di tutti gli elementi in comune di tutti gli elementi di dialogo che ci sono tra queste culture Cernobilskia Malitva fu pubblicato nel 1997 poi fu tradotto in varie lingue fu tradotto anche in in ucraino da da Oksana Zabushko ed è probabilmente il il libro più noto sul sulle vicende del 1986 sulle sue conseguenze è interessante per esempio questa è una cosa che ha notato ancora Tamara Kundrova che in inglese si sia proposta una traduzione molto interessante del titolo Voices of Cernobyl quindi mostrando il carattere polifonico di questa narrazione il tema di Cernobyl continua a essere importante anche oggi nella letteratura ucraina nella letteratura bielorussa e non solo probabilmente più avanti parleremo di alcune opere più contemporanee magari sto fermandoci su una in particolare ma per esempio anche nella poesia il tema di Cernobyl continua a rimanere molto importante anche nell'opera di autori nati a cavallo nel 1986 poco prima o poco dopo quindi è qualcosa che veramente ha accompagnato lo sviluppo delle letterature slavo-orientali dal 1986 1987 fino ad oggi e che immagino è qualcosa che continueremo a sentire e incontrare anche nei prossimi anni grazie Alessandro ti chiedo subito dei nomi che hai citato c'è qualcosa di tradotto in italiano? non credo anche perché i primi nomi che ho citato sono nomi che in realtà questo avrei dovuto dirlo prima sono passati abbastanza in secondo piano adesso quindi sono nomi che per certi versi con l'eccezione e chiaramente di Lina Kostenko hanno avuto una sorta di canto del cigno in quel periodo sono nomi che erano molto noti ai lettori ucraini e che quindi hanno avuto un'ampia circolazione in quel periodo ma che poi diciamo il cambio della rivoluzione nella cultura e nella cultura letteraria degli anni a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno per certi versi portato a diventare improvvisamente in secondo piano mentre ti sarebbero fatte sentire le nuove voci legate alla rivoluzione postmodernista grazie mille allora abbiamo parlato di memoria dal punto di vista più nazionale più culturale e invece adesso veniamo un po' all'Italia in un certo senso tra l'altro prima è stato citato il sarcofago di Cernobil ci tengo a ricordare da Pordenonese che è stato fatto dalla ditta Cimolai quindi c'è una parte di Italia anche a Cernobil però appunto un importante progetto che ha interessato l'Italia subito dopo la tragedia è stato il progetto legato ai bambini di Cernobil e chiedo a Iarina di parlarcene visto che è stata autrice di articoli su questo argomento anche recentemente per il Sole 24 Ore se non erro sì giusto Martina è uscito proprio lunedì io non lo chiamo articolo lo chiamo più reportage perché è stato proprio un lavoro un lavoro molto impegnativo e infatti da 29 pagine di sbobinamento ho dovuto ridurre fino a 7 pagine ed è stato molto impegnativo e l'ho fatto insieme alla giornalista italiana Antonella Scott che mi ha accompagnata in tutto questo progetto e da quando mi sono trasferita in Italia del 2015 essendo io stata una bambina di Cernobil e quindi sono finita in Italia proprio per questo continuavo ad incontrare le persone che condividevano queste storie e che continuavano a dire anch'io sono bambina di Cernobil anch'io e quindi questi tanti anch'io ho voluto raccogliere in questo articolo scegliendo dei personaggi che in qualche maniera hanno legato la loro vita poi all'Italia o grazie all'esperienza italiana continuano a vivere in Ucraina ma a lavorare magari nell'ambito di costruire questi ponti bilaterali a parte intervistare ormai che sono coetanei siamo tutti coetanei della tragedia perché siamo presto poco nati tutti nell'86 ho intervistato anche le famiglie che loro hanno condiviso la loro esperienza cosa è stato il perché di comunque accogliere questi bambini di Cernobil che venivano dalle famiglie ucraine da quelle zone contaminate e davvero è stata una bellissima esperienza a sentire proprio tutte e due parti e i protagonisti di questo di questo articolo sono Oleksandr Komarevic il ragazzo che andava che stava in una famiglia vicino a Napoli infatti qui introduco anche la geografia perché l'Italia è stata coinvolta praticamente tutta quindi Oleksandr Komarevic che è stato a Napoli e adesso lavora per un progetto molto interessante perché lui si è sempre interessato delle start-up e lavora nell'ambito di un programma delle start-up supportato dall'Università degli Studi di Bocconi e poi avevo parlato di Irina Prus che anche lei veniva già in queste zone lombarde che anche lei ha continuato insomma ha legato la sua vita all'Italia e lavora nell'ambito di istruzione diciamo per le grandi aziende e poi infine ho parlato di Anatoly Kuzsevol ormai è diventato un grande diciamo pezzo del politico sì dello Stato di Ucraina perché infatti lui lavora ha sempre lavorato nei progetti tipo la rappresentanza dell'Unione Europea in Ucraina e quindi lui sempre nel suo dal suo punto in Ucraina cercava sempre di costruire questi ponti con l'Europa perché comunque l'Europa lui l'ha vista attraverso l'Italia a parte volevo anche raccontare e menzionare in questo progetto la difficoltà con quale si sono scontrate le famiglie italiane per comunque far venire e arrivare i bambini perché ancora all'inizio degli anni 90 lo raccontava anche nell'articolo uno degli accompagnatori il visto si riceveva a Mosca quindi la logistica per far arrivare i bambini era molto difficile perché a parte che erano tutti minorenni quindi si doveva avere il consenso dei genitori si doveva avere la cartella clinica e avere e avere un visto quindi per quanto comunque le famiglie italiane si sono scontrate con queste difficoltà per far arrivare i bambini in Italia e praticamente la preparazione verso il viaggio durava più del soggiorno stesso diciamo e quindi certe volte durava anche poteva durare anche sei mesi per far arrivare i bambini solo per per un'estate e poi insomma come avevo già riportato che in questi legami diciamo hanno legato l'Ucraina e l'Italia ma non solo l'Ucraina ma anche Bielorussia perché è uscito di recente anche un articolo su Lanza che parlava proprio dei bambini bielorussi che fino adesso vengono alle famiglie a soggiornare presso le famiglie italiane e purtroppo per il Covid da due anni sono bloccati Grazie grazie per questa bella panoramica che insomma ci riporta sempre comunque anche alla contemporaneità appunto perché le conseguenze di questa catastrofe si lente perché è un po' come il Covid da un certo punto di vista sono queste radiazioni che noi non vediamo e che quindi all'epoca dovevano sembrare ancora più più incredibili di quanto ci sembra oggi il Covid per dire quindi veramente è qualcosa di immaginabile tornando cioè restando sul presente chiedo invece a Claudia di raccontarci appunto invece il turismo di cui abbiamo già accennato più volte questa sera Sì allora il turismo è un po' un tema abbastanza ampio per quanto riguarda questa zona vorrei innanzitutto dire che sebbene parte della popolazione anziana e più povera diciamo sia rimasta o comunque sia tornata ad abitare nei pressi della zona in seguito appunto alla tragedia ricordiamo quelli che abbiamo già nominato i samosseli è anche vero che molte famiglie che sono sono evacuate o scappate dalla zona non hanno mai fatto ritorno perché perché la ferita è ancora aperta e come accennavo prima la storia non è ancora stata digerita no quindi queste persone vogliono piuttosto dimenticare quello che quello che è successo ecco ma per assurdo mentre si dice che appunto la zona è disabitata la regione è disabitata per assurdo la regione circostante la zona di esclusione quindi al di fuori dei 30 km che sono limitati ecco quella zona lì si sta ripopolando piano piano e tra i primi ad accettare di vivere in queste zone oltre appunto ai samoseri che ho appena citato sono stati sfollati interni quei rifugiati provenienti dalla guerra del Donbass che hanno accettato condizioni abbastanza diverse ma anche un po' simili ecco sempre un po' terribili diciamo perché perché probabilmente come dicevano alcuni di loro in alcune interviste è molto meglio vivere in un villaggio contaminato dalle radiazioni che sotto le bombe ecco quindi la zona è la regione diciamo di di Cernobil è comunque abitata intorno poi ci sono c'è questo raggio di 30 km in cui appunto c'è all'interno c'è la città di Cernobile e la città di Pripyat che sono appunto disabitate a metà diciamo perché la città di Pripyat è una città fantasma completamente vuota e nessuno può andarci a vivere perché ovviamente gli edifici crollano e sono in uno stato pietoso la natura ha preso il sopravvento eccetera le uniche due persone che diciamo vivono nei pressi e stanno in città nella città di Pripyat tutto il giorno sono i due guardiani del posto di blocco che c'è all'inizio della città ecco mentre la città di Cernobil come scrivevo anche in un articolo qualche anno fa Swiss Journal la città di Cernobil è ancora abitata a metà perché ci abitano ancora gli operatori della centrale di manutenzione i guardiaboschi e tutte le persone che lavorano per salvaguardare diciamo l'ambiente circostante nonché appunto i guardiani della città di Pripyat fanno a turni ovviamente perché non si può stare in quella zona per più di due settimane a seconda anche del lavoro che si fa perché è pericoloso a causa delle radiazioni ecco di sicuro appunto tutte queste persone soprattutto appunto gli sfollati del Donbass e gli abitanti della zona i samoseli non sono persone che considerano la regione del sito o il luogo di Cernobil come una meta turistica né tantomeno come un'attrazione di turismo estreno o quello che ha chiamato dark turismo adesso centinaia infatti centinaia di migliaia di persone ogni anno vengono in Ucraina proprio per vedere questa città fantasma di Pripyat e la zona di esclusione che sebbene sembri un set di un film post apocalittico non è una decorazione è un luogo dove comunque si respira ancora la catastrofe dove la natura non ha semplicemente preso il sopravvento ma semplicemente l'uomo non c'è più è scomparso e quindi animali e pianti sono tornati a vivere nel loro habitat naturale prendendo appunto possesso del loro habitat se la zona comunque di esclusione è ancora disabitata questo cerchio di 30 chilometri un motivo c'è ed è abbastanza reale appunto gli edifici come dicevo stanno gradualmente e letteralmente crollando tant'è che l'Ucraina si sta muovendo per includere la zona nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO al fine di preservarla ma non solo perché il turismo arriva in massa in questa zona perché il turismo ha uguale soldi principalmente quindi lo stesso governo di Zelensky è favorevole a questa iniziativa perché permetterebbe alle generazioni future di vedere con i propri occhi quello che è accaduto così lui spiega questa motivazione turistica ecco quindi oltre alle pagine dei libri ai documenti e ai documentari appunto si potrebbe avere qualcosa di più tangibile ecco tuttavia le opinioni sul turismo a Cionnobili sono abbastanza contrastanti e tra l'altro vorrei far notare che ne hanno parlato molto bene Eleonora Sacco e Angelo Zinna in un loro episodio del podcast Cemento che per chi non lo conosce è disponibile online appunto quindi potete anche ascoltarlo per avere anche due punti di vista diversi su questo dark turismo in Ucraina posso aggiungere anche che appunto anche se ne ho già scritto che per entrare nella zona è necessaria un'autorizzazione locale questa autorizzazione è detenuta solo dai tour operator riconosciuti dal governo e dalle associazioni umanitarie tra cui appunto quelle che citava Iarina rimaste comunque poche a oggi e che aiutano i samoseli o agiscono per la salvaguardia dell'ambiente ecco per quanto riguarda i tour operator hanno fatto molto lo scorso anno perché hanno raccolto molti fondi e lo scorso anno quando sono sono scoppiati gli incendi proprio in questo periodo tra l'altro all'inizio della della pandemia ecco in aprile sono scoppiati degli incendi nella zona e non nella zona di esclusione ma nella regione di Cernobile nella regione di Jitomir e appunto questi incendi rischiavano di penetrare proprio nella zona di esclusione e aumentare il disastro appunto ambientale ecco che già c'è quindi c'è stato un vero e proprio allarme anche nella capitale di Kiev perché c'è e nelle regioni adiacenti a Cernobyl perché appunto il fuoco e soprattutto il fumo si diramava insomma tutto intorno e c'era un pericolo anche per le radiazioni ecco che tornavano in superficie diciamo brevemente per quanto riguarda questi tour operator posso dire che ce ne sono moltissimi e per entrare appunto nella zona bisognerebbe appoggiarsi a quelle a quelli più affidabili che forniscono delle guide locali certificate e che effettuano anche le loro escursioni in massima sicurezza sia per i turisti stessi sia per le guide appunto che effettuano queste escursioni ci sono appunto edifici dove è proibito entrare per pericolo di crollo e radiazioni molto elevate ed è pericoloso anche ad entrarsi in alcuni luoghi ad esempio la foresta rossa che è quella foresta che è confinante con la Bielorussia e che risulta la zona più radioattiva in assoluto ancora oggi i prezzi diciamo di questi tour operator sono molto alti anzi direi altissimi le escursioni per gli stranieri costano il doppio se non il triplo rispetto a un cittadino ucraino e variano a seconda appunto dell'itinerario offerto spesso comprendono la visita al picchio rosso il radar Duga 3 appunto che è in prossimità della zona di Chernobyl e che si chiama appunto Chernobyl 2 e spesso si spingono addirittura alle gite in caillaco in canoa lungo il fiume Pripyat che è la principale fonte di radiazione ancora oggi è il fiume più radioattivo al mondo ecco e quindi si bisognerebbe un po' pensarci ecco purtroppo questo tipo di turismo è diventato un business un vero e proprio business e capita spesso che addirittura i turisti che arrivano a fiotte da ogni continente non sanno manco dove si trova l'Ucraina dove si trova Chernobyl in una mappa in una cartina geografica diciamo e capita spesso anche che non conoscano la storia ucraina la storia del paese e le vicende proprio della catastrofe per questo quello che posso dirvi ecco pensateci magari due volte prima di intraprendere un viaggio del genere solo per scattare un selfie con un edificio che crolla o portarvi a casa anche un falso souvenir radioattivo ecco perché non è così così bello ecco portarsi a casa delle radiazioni ecco l'importante è appunto documentarsi e visitare prima di tutto magari quello che consiglio io è visitare prima di tutto il museo di Chernobyl che si trova nella capitale a Kiev che è molto fatto bene è interattivo e aiuta soprattutto a studiare la catastrofe prima appunto di andare a visitare un luogo come Chernobyl dal vivo ecco fatelo soprattutto secondo me per il rispetto nei confronti della gente che ha veramente vissuto sulla propria pelle la catastrofe e per rispetto all'ambiente ecco grazie grazie Claudia ci hai sicuramente fatto passare la voglia di andare a Chernobyl almeno quanto meno a me e parlavamo quindi di impatto ambientale Simone ci fai una panoramica di quello che è oggi l'impatto o comunque quello che è stato anche nel tempo certo io innanzitutto mi devo in realtà dichiarare colpevole nel senso che io l'ho fatto il tour di Chernobyl con ovviamente con un tour operator non sono andato anch'io sono colpevole sì no infatti so di essere in buona compagnia in realtà conosco non so quasi tutti gli storici i miei colleghi lo hanno fatto insomma perché è normale che ci sia curiosità nei confronti di quello che è successo e questa curiosità secondo me è dovuta anche dal fatto che in realtà le conseguenze sull'ambiente sulla salute dell'incidente di Chernobyl non sono affatto state studiate sufficientemente io voglio farvi vedere un libro perché in realtà è diciamo così un libro che spezza un po' il velo del silenzio su questa cosa anche se è un libro in inglese non è un libro in italiano l'autrice è una storica americana statunitense Kate Brown che insegna all'MIT di Boston e questo libro si intitola Manual for Survival cioè un manuale per soffravivere e lei lo chiama per l'appunto sottotitolo dice una guida di Chernobyl per il futuro ve lo faccio vedere è in inglese poi al massimo mettiamo il link se lo volete vedere questo è un libro fantastico è un libro uscito nel 2019 che l'anno scorso ha fatto man bassa di quasi tutti i premi per i libri di storia che riguardano l'est Europa e non solo perché in realtà è uno dei pochi tentativi che sono stati fatti di cercare di studiare che cosa è successo a Chernobyl dopo l'incidente perché l'elemento chiave diciamo della tragedia di Chernobyl è che sicuramente sono morte delle persone nel momento dell'esplosione e poi quando c'è stato l'incendio e ovviamente sono morti quelli che hanno dovuto spegnere l'incendio chiudere a inizialmente in qualche modo immaginare di coprire il materiale radioattivo eccetera eccetera ma poi in realtà la vera tragedia di Chernobyl è una tragedia che si prolunga nel tempo ed era una cosa che non era successa praticamente da nessuna parte neanche con le bombe di Hiroshima e Nakazaki quello che è successo con Chernobyl è il fatto che l'esplosione ha causato la diffusione tutto attorno alla città di polveri radioattivi di materiali radioattivi che poi hanno viaggiato tantissimo tra l'altro lo sappiamo sono arrivate in Italia sono andate in Francia in Grecia tantissimo sono andate in Scandinavia ma poi ovviamente si sono posati soprattutto lì attorno e in realtà quello che è successo cioè che è un'esposizione per lunghissimi periodi a radiazioni magari non forti ma continue non è stato pressoché studiato e quello che ci racconta Kate Brown è che non è stato studiato non perché come dire nessuno ci aveva pensato ma perché in realtà ci sono state delle agenzie che non hanno voluto studiarlo ovviamente quali erano i contrari a studiare queste cose erano i governi inizialmente lo stesso governo sovietico che vuole mettere come dire dopo aver fatto il danno vuole dire bene adesso abbiamo risolto con successo l'incidente e tutto è tornato è tornato a posto e i governi locali inizialmente sono un po' più critici rispetto a questo poi quando diventeranno indipendenti anche loro cercano di coprire cosa succede a Cernobil e poi anche sorprendentemente le organizzazioni alcune organizzazioni internazionali il mondo dello sviluppo dell'energia nucleare cerca di mettere a tacere la stessa IAEA cioè l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica l'Organizzazione Mondiale per la Sanità non vogliono parlare non cercano di studiare che cosa succede quello che ricostruisce Kate Brown è interessantissimo quando i medici del posto si rendono conto che i bambini soprattutto i bambini iniziano a sviluppare il tumore della tiroide e vanno in sede internazionale a dire guardate questa è la prima conseguenza a lungo periodo dopo un anno dopo due anni dopo tre anni i bambini si ammalano la risposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è no non è vero semplicemente proprio negare la realtà e dire ma no avete studiato mali dati non è vero quindi in realtà il primo dato è che noi ancora non sappiamo bene cosa sia successo perché non c'è stato dato modo di studiarlo si è detto anzi anche gli studiosi che era qualcosa di molto simile a quello che era già successo in Giappone cosa che non è vero e non si è sfruttato il fatto che da lì invece si poteva cercare veramente di capire non era mai successo prima una cosa del genere nella storia quindi era importante capire anche per la scienza cioè come si interviene quando succede una cosa del genere dal punto di vista della medicina cosa si fa per quelli che sono stati colpiti subito da tante radazioni cosa si fa dopo bene questo non è stato non è stato possibile e la cosa che fa notare Kate Brown per esempio anche che la cooperazione internazionale non ha sempre agito nella maniera migliore per esempio sono stati mandati dei medici che si riteneva molto esperti di questi argomenti ad aiutare negli ospedali sovietici ma in realtà questi hanno fatto molto peggio perché in realtà erano i medici soprattutto le dottoresse donne molto spessa erano che già lavoravano in unione sovietica che già avevano visto altri incidenti perché in realtà la storia dell'unione sovietica è anche una storia costellata di tanti incidenti piccoli incidenti come quello di Cernobil quelle le dottoresse sovietiche avevano molta più esperienza di come si trattavano i pazienti che erano stati esposti alla radiazione che non quelli statunitensi e quindi questa collaborazione di questi grandi nominari americani o canadesi che arrivano in realtà si chiude con più come dire più danno di quanto non sia l'aiuto oppure addirittura e questo è un dato come dire che tra l'altro influisce anche sulla memoria della tragedia e che mi è stato adesso io sto facendo anche io delle interviste e questo mi è stato confermato dalle persone che ho intervistato degli studi venivano fatti e poi sono stati tenuti segreti il governo sovietico mandava delle bande di di studiosi di medici a fare degli esami a fare degli esami alle persone e poi questi andavano via senza dare come dire informazioni o notizie di che cosa era successo di cosa avevano studiato agli stessi interessati io ho intervistato una madre e un figlio adesso il figlio ovviamente era piccolo ai tempi adesso anche lui è un uomo adulto questo bambino si è sentito male era in una delle zone in che non sono state subito diciamo così evacuate dopo l'incidente lui ha vissuto per un po' di anni ancora esposto alle radiazioni e lui racconta che un giorno stava male ovviamente quando era ancora lì e non era ancora stato evacuato e un giorno a scuola si sente male lo mandano dai medici i medici lo visitano gli fanno delle foto lui sanguinava quindi stava proprio male ci perdeva sangue dal naso non si riusciva a capire gli fanno delle foto gli fanno degli esami e poi lo mandano via non lo curano e anche la madre che poi cerca di avere notizie su che cosa è successo al figlio quali sono i risultati degli esami non riesce a avere nessuna informazione e la cartella clinica di questa persona è persa ed è secretata allora voi capite anche come dire perché la memoria anche per chi ha vissuto questi eventi sia così problematica perché in realtà non c'è stata non c'è stato quell'aiuto non c'è stata quella voglia di studiare che ci sarebbe dovuta essere Kate Brown poi racconta per esempio anche di come l'inquinamento radioattivo si prolunga nel tempo e nello spazio lei fa vi faccio solo questo esempio per esempio riporta la storia dell'industria della lana a Cernigiv che è una città non un po' così lontana viene portata la lana che viene raccolta quell'anno e che è una rana radioattiva e tutti quelli che lavorano in questo stabilimento che lavora la lana quasi tutti moriranno a seguito delle radiazioni quindi non vivevano diciamo sul luogo dell'incidente ma dato che il governo sovietico non si faceva problemi di riutilizzare materiali radioattivi quelle sono vittime allora voi capite c'è anche un interesse nello sminuire il numero delle vittime che è una cosa che dà molto fastidio se noi dovessimo davvero calcolare quali sono le vittime questo sarebbe molto difficile tra l'altro è come dire Kate Brown scherza anche sul fatto che moltissimo del succo di mirtillo che viene consumato in Europa in realtà è fatto con mirtilli che arrivano dall'Ucraina e proprio dalla zona inquinata di Cernobil e lì dice che ha visto come quando portano i mirtilli al controllo in realtà se c'è un carico che è un po' troppo radioattivo lo mischiano con un altro un po' meno in maniera tale da farla passare tutti quindi se noi prendiamo un bel succo di mirtillo è qua insomma poi sappiamo allora purtroppo queste ricerche non sono state fatte ogni tanto sono state fatte da singoli ci sono singoli biologi singoli zoologi singoli medici che hanno votato la loro vita a studiare le conseguenze di Cernobil ma un vero e proprio studio non è stato fatto e se posso aggiungere ancora una cosa sulla memoria di cui si è parlato prima a me ha fatto molta impressione intervistare persone che abbiano vissuto la tragedia di Cernobil perché ovviamente questa è come dire è vissuto come differentemente da quello che succede di solito con le catastrofi durante le catastrofi naturali c'è un evento che è la catastrofe e la tragedia e poi dopo inizia comunque un racconto che è il racconto della ricostruzione del dopo qui non è così qua c'è una catastrofe che succede che è l'esplosione del reattore che uccide pochissime persone e poi questa è una tragedia che si diluisce nel tempo perché le morti le malattie arrivano a 15 a 20 anni di distanza e quindi per le persone che vivevano nella zona di esclusione che poi sono andate via questo si è trasformato come in uno stilicidio il vedere di anno in anno i paesi dove loro erano nati avevano vissuto avevano immaginato di costruire una vita vederli man mano sempre più distrutti vedere le persone che man mano morivano tutti gli amici tutti i parenti che muoiono a seguito delle radiazioni io sto studiando la popolazione di Polische che è una cittadina molto piccola anche se è un right center diciamo quindi in realtà aveva un centro amministrativo importante dall'epoca dell'Unione Sovietica e tra l'altro anche il posto dove lo stesso Navalny faceva le vacanze estive con i nonni hanno non intervistato Navalny però ovviamente le persone che vivevano lì hanno col tempo visto distruggere la propria vita e questo li ha colpiti la seconda generazione in compenso quando si intervistano i giovani i figli e questi in realtà hanno una memoria completamente diversa perché per loro l'essere stati poi evacuati da quella zona ha significato in certi casi una fortuna innanzitutto si sono salvati è vero che hanno dovuto inizialmente subire il razzismo di voi siete quelli di Cernobil voi siete radioattivi i bambini che non volevano giocare assieme eccetera ma molti come dire soprattutto quelli che sono riusciti a trasferirsi in grandi città hanno visto la cosa innanzitutto come la fortuna della loro vita stavo in un paese sperduto della zona di esclusione e adesso ho vissuto ho fatto come dire esperienze che la capitale se vivono a Kiev o una grande città mi hanno permesso di fare e altrimenti non avrei fatto e dall'altra parte loro hanno come dire un'esperienza molto più ludica e allegra del paese dal quale vengono nel senso che colpisce ma loro dicono noi andavamo lì d'estate a trovare i nonni che erano rimasti lì a vivere per noi era bellissimo era un campo di gioco fantastico perché non c'era quasi più nessuno c'era un sacco di case abbandonate io e miei cugini andavamo in giro e facevamo da ragazzini la nostra estate spensierata e poi tornavamo a vivere a Kiev durante quindi le memorie come dire sono molto intricate ovviamente dipendono dal fatto che questa è una tragedia diversa una tragedia che ha una evoluzione diversa che va studiata in maniera originale grazie mille andiamo verso la conclusione arrivando a spiegare invece il titolo di questo di questo nostro incontro appunto una passeggiata dentro e fuori la zona che vuole un po' citare invece il titolo di un romanzo che Alessandro ha tradotto recentemente per Keller se non erro di Martian Kamush che spero di aver pronunciato bene il mio ucraino pecca purtroppo che appunto si titola una passeggiata nella zona quindi invito Alessandro a raccontarci un po' questo libro a farci un po' la nota del traduttore se vuoi allora sì prima di passare a Kamush noto che Luigi Morano nella chat ha giustamente notato che Preghiera per Cernobyl è stato tradotto in italiano sì errore mio probabilmente davo cosa che ho fatto concentrandomi sulle opere degli anni 80 no certamente il libro è disponibile in molte lingue tra cui l'italiano allora prima abbiamo detto che paradossalmente per la cultura e la letteratura Cernobyl è stato quasi un evento catartico che ha favorito o quantomeno accompagnato grossi mutamenti nella sfera culturale e abbiamo detto anche che questi mutamenti esattamente come le radiazioni continuano a verificarsi il tema di Cernobyl continua a essere presente e continua a essere affrontato in diversi modi l'esperienza di Markian Kamish è molto vasta Kamish ha conosciuto i fatti di Cernobyl attraverso essendo un un bambino ucraino all'epoca e essendo figlio essendo la sua famiglia riguardata direttamente suo padre era un fisico e anche i guidatori e poi è morto probabilmente per le conseguenze del suo coinvolgimento diretto all'inizio degli anni 2000 Kamish ha scritto diversi libri sul tema questo è solamente uno dei vari e sta ancora lavorando su questo argomento Una passeggiata nella zona è un libro molto corto che insomma si può leggere abbastanza in fretta ed è un libro che ci mostra la varietà del significato l'ampiezza la varietà la ricchezza del significato storico culturale di questo fenomeno è un libro che appunto se devo parlare della mia esperienza di traduttore mi ha creato problemi sfide in quanto mi sono trovato a dover cercare nel mio italiano un diapason di sfumature punti di vista listri lessicali molto ampio che fosse in grado di rendere giustizia alla scrittura di Kamish Kamish vede nella zona in cui ha passato sommando tutti i suoi vari soggiorni diversi mesi anche anni probabilmente conosce la zona perfettamente e ci fa vedere tutta la sua ricchezza tutta la sua varietà e tanto è ampia la zona come la vediamo attraverso gli occhi di Kamish ne vediamo la disperazione la rovina le tracce del passato ma anche la bellezza vediamo appunto come già stato detto stasera questa natura che rinasce risorge che si riconquista quello che l'uomo le aveva portato via quindi vediamo tutto questo e allo stesso tempo vediamo questa ampiezza storica e culturale riflettersi chiaramente nei vissuti del protagonista che trova nella desolazione di questa zona e nei suoi tanti volti delle risposte a un a a un proprio vissuto a un proprio dolore a una propria incertezza vediamo il protagonista muoversi più volte tra Kiev la capitale e la zona lo vediamo andare lo vediamo tornare lo vediamo visitare la zona da solo e visitare la zona in compagnia lo vediamo godere della bellezza della zona e soffrire per per le condizioni che per le condizioni estreme che chiaramente la zona può comportare per chi decide di intraprendere dei viaggi dei viaggi clandestini dei viaggi illegali vediamo le difficoltà nell'arrivare nella zona nello stare nella zona ma anche tutto quello che paradossalmente la zona può dare a chi a chi vuole conoscerla quindi abbiamo un punto di vista non abbiamo un bianco e un nero abbiamo molte sfumature molti modi in cui si può vivere si può conoscere si può guardare si può ricordare questo luogo tutto come dicevo in un romanzo che è lungo mi sembra per quanto ricordo poco più di cento pagine per cui si può leggere rapidamente e quindi la cosa che ricordo di più della mia esperienza di traduttore due anni fa è stato ancora una volta il riuscire a rendere tutte le sfumature del linguaggio di Camiche sfumature che ritraggono tutti i sentimenti che la zona può suscitare grazie mille è stato un vero invito alla lettura nel senso ci hai fatto venire voglia di sfogliarlo anche perché la brevità penso che possa essere anche un no come diceva Ciecov la brevità è sorella del talento in qualche modo bene io vi ringrazio assolutamente ringrazio quanti ci hanno ci hanno seguito ci hanno commentato e fatto domande e vi auguro una buona serata e una buona cena grazie arrivederci